Tanta la paura registrata in Cile precisamente a Santiago per colpa di un fortissimo terremoto di 6.7 che è stato avvertito della Argentina vicina adesso a questo paese a ridosso delle regioni proprio delle Ande. Due persone anziane sono morte per infarto per colpa di questa scossa che ha interessato la regione del nord di Cochimbo e che secondo l'ufficio nazionale di emergenza del ministero dell'interno cileno è stata di ben 6.7 gradi della scala Richter. I carabineros cileni hanno fatto sapere che non si registrano gravi danni ma alcune vie di comunicazione sono rimaste bloccate dalla caduta di materiale roccioso in diversi centri abitati come proprio Cochimbo i medi avrebbero segnalato la fuga precipitosa della popolazione che si sarebbe riversata nelle diverse strade nel timore di nuove repliche che ci sarebbero state ma di una minore magnitudo a essere ucciso un uomo di 70 anni colpio da infarto mentre usciva da un ristorante a Cochimbo e anche una donna di età avanzata che si è spenta per la identica causa la serena. Vi ringrazio per l'ascolto i simi utenti di youtube il video termina qua iscrivetevi se vi va commentate datemi la vostra opinione un cordiale saluto a voi tutti da narratore italiano Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie.